Via via via! Per favore! Messo! Fate aria! Dai, via! Dai, 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 su! Che onore! Che sorpresa, Vescovo! Eccellenza, che piacere! Purtroppo il bacio non si usa più. Portatemi una bacinella che vi lavo i piedi a tutti qua. Ma non è il caso. Sono le nuove normative. Il nostro slogan è Niente attici, tanta umiltà. Va beh. Però se per voi va bene mettiamogli già lavati. Eccellenza, non si potrebbe. Va beh, ma noi non diciamo niente. Grazie a Dio. Brahma. Brahma, Visnu, Shiva, Odino, Zeus e... Bumba? Me lo scordo sempre. Bumba non mi entra in testa. Li dobbiamo dire tutti quanti, per non discriminare nessuno. Sono sempre le nuove normative. Eh, allora? Perché ci avete chiamati? Non c'è più religione dal 7 dicembre al cinema.